L'ultima risposta di Roberto Maroni era dedicata ai drammatici fatti di Chiuduno in provincia di Bergamo dove al termine di una rissa fra immigrati indiani e pakistani un medico, una dottoressa ha perso la vita mentre soccorreva una delle persone coinvolte. In questo fatto noi oggi abbiamo intervistato proprio in regione Lombardia il sindaco di Chiuduno, Stefano Locatelli. Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno, paese della Bergamasca dove ieri si è verificato un episodio di cronaca nera l'uccisione di due persone di cui una bergamasca e un'altra è straniera da parte appunto di un immigrato. Questa catena però si sta allungando anche oggi. Sembrerebbe si stia allungando anche oggi. Quello che è successo a Chiuduno credo che sia uno degli atti più gravi di cui almeno io personalmente sono a conoscenza anche per come mi è stato raccontato dai residenti della zona che sono tuttora sotto shock. Mi sono fatto giustamente raccontare l'accaduto nei dettagli e la situazione davvero era raccapricciante quella sera perché come si è saputo dai giornali, come si è letto, come si è visto in televisione è successo di tutto e di più. Sembrava di essere in un film una violenza inaudita perpetrata appunto da immigrati, tra immigrati per cose loro. La cosa che più lascia perplessi, oltre ovviamente perché dispiace anche per l'immigrato morto, ci mancherebbe altro, le vite umane sono tutte uguali. È per la dottoressa, quella dottoressa che è Eleonora Cantamessa, 44enne, residente nella zona, che si è fermata per soccorrere come avrebbe fatto probabilmente chiunque altro. Quella persona stremata a terra, visto che era da solo, è scesa dalla macchina, è andata a dargli una mano e quello che è successo è che i quattro che inizialmente erano fuggiti con la macchina hanno fatto inversione di marcia e sono rientrati per andare a catapultarsi direttamente su tutti i soccorritori che in quel momento erano accorsi appunto per vedere l'accaduto. Quello che è successo è quello che avete sentito. Ci sono due persone morte, due in gravissime condizioni all'ospedale, sei feriti. Adesso, ieri, hanno arrestato un 25enne fratello della vittima perché la cosa sembra appunto una cosa familiare, quindi un regolamento di conti loro. È stato arrestato questo e ci sono 6-7 indagati che non sanno ancora se quindi indagare per omicidio o semplicemente per la rissa. Sta di fatto che la situazione è davvero arrivata allo stremo. La gente in paese ha paura, non ha tanto paura per la sicurezza interna, perché quello che si è visto si è semplicemente svolto a chiuduno, ma riguarda una cosa che sarebbe potuta capitare ovunque sul territorio. Questo cosa ci fa capire? Che non c'è sicurezza sul territorio, una sicurezza che però manca a livello statale, perché finché usano i soldi per andare a prendere i barconi a largo delle coste italiane e non li investono sulla sicurezza sul territorio, non capisco come possa esserci un'integrazione che modo migliore, affinché avvenga, non c'è se non quello di una maggior sicurezza sul territorio, delle regole ben definite, ben chiare, con una giustizia che in Italia a quanto pare è farlocca, anche perché quando prendono persone per qualunque tipo di reato, le mettono in galera anche solo 4-5 anni, poi cosa succede? Le carceri sono piene, veniamo a sapere che il 40-50% dei carcerati, adesso non ricordo i dati, sono stranieri, sono troppo piene e quindi anziché portare le persone al loro paese d'origine, oppure potrebbero dire costruite altre carceri, cosa fanno? Li lasciano ancora liberi. Sanno che in Italia la giustizia è farlocca e questo è il risultato logico delle politiche portate avanti da questo governo. È ovvio anche che quando abbiamo un ministro che continua a dire che in Italia di problemi non ce ne sono, che bisogna continuare a integrarsi e per una maggiore integrazione la cosa migliore da fare è togliere, depenalizzare i reati che vediamo, quindi anche semplicemente la clandestinità che non dovrebbe esistere, capiamo benissimo che di episodi del genere ce ne saranno tanti. Quello che è successo la notte scorsa, stavo guardando prima l'Equo di Bergamo, si legge di Chiuduno, si legge di questi stranieri che hanno fatto questa maxirissa sfociata in qualche successo. Villa Dadda, un altro paese della zona, una ragazza che aveva sposato un marocchino ha deciso di separarsi, questo marocchino l'ha coltellata, lei è in fin di vita e lui non ho capito ancora se è morto perché si è gettato dal ponte. Stezzano, altro paese della zona, c'è stata una maxirissa anche lì tra i migrati, tra due pakistani che sono stati accoltellati e una decina di ragazzi dallo Sri Lanka. Capiamo benissimo che se questo è il modello di integrazione che vuole portare avanti il nostro ministro, non so dove andremo a finire, o meglio non voglio pensare a dove andremo a finire. Quindi servono più sicurezza sul territorio, quindi più soldi investiti dallo Stato per le forze dell'ordine e sicuramente un ritorno al famoso pacchetto Maroni che è stato vergognosamente secondo me abolito dai governi successivi per fare in modo che i sindaci così siano lasciati soli. Io sono da solo, sono sindaco, non posso fare niente, sono obbligato a portare avanti tutte le richieste di residenza da parte di tutti perché ormai in questo Stato italiano tutto è concesso. Ho detto anche che non è possibile più fare controlli concreti, perché? Perché non è possibile, non ce lo consente la legge, bisogna stare attenti ad ogni cosa che si fa perché ci sono i sindacati che anche solo per una richiesta in più dell'ISE ti denunciano perché ad esempio c'è la questione dell'Inps, gli assegni Inps famosi probabilmente per noi amministratori, non tanto per i telespettatori. Cos'è che succede? A tante persone hanno detto che bisogna andare in pensione più tardi perché non ci sono i soldi. Dall'altra parte continuano a dare assegni familiari, a nuclei familiari superiori che abbiano al loro interno tre minori, almeno tre minori, sappiamo benissimo chi sono questi nuclei familiari. Adesso prima si poteva decidere se la famiglia era italiana oppure comunitaria. Adesso un'interpretazione nuova ha fatto sì che anche tutti gli extra comunitari regolarmente residenti sul territorio abbiano diritto a queste cose. Come sindaci, come detto facciamo qualcosa, ci denunciano. È un esempio quello di Osio Sotto, il sindaco di Osio Sotto si è rifiutato di pagare gli assegni familiari a una famiglia di extra comunitari perché appunto proprio il modello dell'Inps non prevedeva il pagamento di questi assegni perché addirittura il modello Inps diceva italiano o comunitario. Lui ha detto non mi diceva né comunitario né italiano, io non ho dato questo assegno agli extra comunitari. Hanno fatto causa, hanno vinto, ha dovuto pagare 4.000 euro, 4.000 euro che il comune ovviamente di Osio Sotto ha dovuto mettere a disposizione a questi oltre a dover dare tutti gli arretrati a questo gruppo di persone. Quindi dico c'è più tutela ormai per gli extra comunitari rispetto agli italiani. Tutto qua.